L'impegno di Edison nella transizione energetica è molto concretamente orientato a realizzare sempre più investimenti che sviluppino energia rinnovabile e prospetticamente decarbonizzata. Questo ha un valore per le comunità, sia a livello locale, dal punto di vista degli impatti ambientali in senso ristretto, ma anche in termini generali in relazione agli impatti sulle emissioni clima alteranti e alla loro progressiva riduzione. Edison è fortemente impegnata in questa direzione così come anche ad accompagnare i propri clienti industriali, le pubbliche amministrazioni, ma anche le singole famiglie e i nuclei familiari in genere verso degli utilizzi dell'energia sempre più consapevoli, sempre più responsabili e sempre più coerenti con la mitigazione climatica, decarbonizzati e possibilmente rinnovabili. Qualcosa che Edison sta molto valorizzando dal punto di vista di questi tipi di nuove soluzioni sono le comunità energetiche che uniscono la possibilità di socializzare produzione e consumo di energia con il fatto che questa energia è più ottimizzata dal punto di vista complessivo e soprattutto più rinnovabile e quindi decarbonizzata.